il messaggio del cielo l'amore quale energia viene dal cielo? energia dell'amore e tu fai cose per amore se tu vivi solo ma tu vuoi un amore tu fai così tu senti che tu sei in amore se tu vai al mercato non compri un panino compri due due mele perché tu anche compri al tuo amico o alla tua amica? già ho detto se tu vuoi un amore nella tua casa fai così tu già vivi insieme con altra persona letto per due persone anche un sandale questo sandalo è per il tuo amore e leggi, leggere libro dell'amore ascolti musica dell'amore ma non così che devi piangere perché il libro è tristezza, la storia è tristezza, no 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 solo ascolti e leggi la storia allegra dell'amore questa carta dice a te tu senti nel tuo cuore amore se tu senti se tu senti viene amore nella tua vita e sarai più felice grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti